Siamo qui al Klima House, presentiamo oltre alla nostra gamma standard soprattutto tutto quello che riguarda le soluzioni per tetto piano. Un'evoluzione iniziata con dei prodotti alcuni anni fa, oggi la gamma viene implementata con le aperture a 90 gradi per uscita tetto, viene implementata con la finestra calpestabile filo pavimento. Offriamo anche per tutte queste soluzioni la possibilità di avere qualsiasi tipo di colorazione RAL, per cui i PLAS sono grande versatilità, grande ampiezza di gamma e ottime performance termiche da questo punto di vista.